Sì, giornata di grande lavoro perché, come ho detto anche in altre occasioni, è l'unica chiave per uscire da questo momento di crisi a livello di risultato. Sì, purtroppo in questo momento gli episodi non stanno girando a nostro favore perché, come hai detto tu, quasi tutta la partita in dieci è sotto di un gol perché, quando siamo rimasti in dieci abbiamo subito anche il gol, abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare addirittura per andare anche in vantaggio. Una volta raddrizzata abbiamo avuto la botta del 2-1, abbiamo avuto una determinazione nel voler andare a riprenderci un'altra volta il pareggio che è da grande squadra. Sì, sì, in questo momento le mie doti fisiche stanno uscendo prevalentemente nel secondo tempo, mi sento sempre meglio e questo è dettato dal duro lavoro che abbiamo parlato all'inizio di intervista. Ci aspettiamo una gara molto difficile, come tutte quelle di Serie B, ma a maggior ragione quando c'è qualità nei singoli e oltretutto quando hanno appena cambiato l'allenatore, quindi hanno stimoli nuovi e ci aspetterà una battaglia. Sì, contro il Brescia ma a mio avviso anche contro il Pescara, contro il Pescara per quanto il risultato non è stato a nostro favore abbiamo fatto, abbiamo creato buone occasioni e soprattutto avevamo sempre noi il pallino del gioco, secondo me ne avevamo anche di più a livello fisico e abbiamo dimostrato di essere superiori, come in tante altre partite. Grazie a tutti.